Ancora una volta si chiede di procedere verso il mercato di Vittoria con l'accesso di una specifica commissione del Ministero degli Interni volta ad accertare il livello di infiltrazione e di condizionamento mafioso dello stesso mercato. E quanto affermano in una nota congiunta l'articolo 1 MDP Francesca Irlo per il coordinamento di Vittoria e Gianni Battaglia per il coordinamento provinciale di Ragusa? Sarebbe un non senso, affermano Ille Battaglia, se ciò non si facesse e rimaniamo consapevoli che solo una profonda riforma delle regole che governano attualmente la filiera agronimentare ai mercati potrà salvare Vittoria e tante realtà del mezzogiorno dal disastro in cui ci troviamo. Il lavoro dei magistrati in questo contesto premessa è spinta verso il cambiamento e la nostra richiesta di accesso è stata squalificata intanto come espressione bizzarra di supposti nemici della città ed è stata osteggiata a tutti i livelli da esponenti politici locali, regionali e nazionali durante le ultime campagne elettorali. Occorre pertanto, concludono Battaglia e Aiello, che la politica e le istituzioni si muovono rapidamente per porre all'ordine del giorno questo grande tema della riforma complessiva dei mercati e della filiera agronimentare, raccogliendo anche la spinta al cambiamento che viene dalla magistratura.